Nel destarsi un mattino, da sogni inquieti, Gregorio Samsa, mio fratello, si trovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto. E non parlava, muggiva. Aveva lunghe antenne, era nero ed enormi mandibole. Sembrava un uomo in frac. Tutto si svolse normalmente, in un'atmosfera ovattiva, mio padre urlò, mia madre svenne. Il procuratore arrivò pieno di boria e poi fuggì circospetto quando Gregorio, il mio Gregorio, uscito finalmente dalla stanza, si aggirò senza rendersene conto col suo dorso mostruoso per la casa. Era un mostro. Era mio fratello e io sono una donna. Un tempo l'ho segretamente amato. La mia prima reazione fu di pietà. Il mio amato si era ammalato. Egli dentro di sé era la stessa persona. Avevo notato in lui un modo di stare intabbarrato. Egli, mi chiesi, stava già diventando così? Cominciai a odiarlo. Forse non me ne ero mai accorta a causa del mio follo amore per lui. Forse è sempre stato così. E me ne accorgo soltanto adesso. Forse era una dolorosa allucinazione. Ma lo avevo mai conosciuto com'era veramente. Forse sono io che lo vedo così, pensai. Sono io che sono cambiata. O lui. Non esisteva elemento di confronto fuori di me. Mio padre e mia madre non ne parlavano mai. La metamorfosi di Carlo Bordini